le profezie puntata sarà la 19 delle profezie diviso due sarà otto sette nove esattamente bravissimo cominciamo con il sabato pomeriggio sabato da campioni che si porta allo stadio bria masco ore 14 e 30 la sfida contro la prima della classe per alpi salò che che conduce le danze con 61 punti e che viene affrontata da un trento praticamente rimaneggiato insomma con una difesa indebolita contro una ex punta che ha anche dimostrato di poter dire la sua un ex punta no no è vero sto mettendo insieme cose che non esistono diciamo contro la fralpi salò e con perché mi sono messo in testa sta cosa di bockelon non lo so ma comunque ah no no perché c'era il riferimento bockelon della settimana scorsa e praticamente bockelon che gioca nel manto ha segnato sì esatto ho fatto un po di ho mescolato un po di cose no comunque rimane il fatto che il trento si presenta con mezza difesa praticamente questo è sicuro ecco tra qualifiche e infortuni sì e perde secondo me il trento perde di brutto no di brutto perde perché magari anche di brutto perché al di là di presentarsi con mezza difesa gioca contro una squadra che è riuscita a crearsi lo spazietto di quattro punti di vantaggio mai come quest'anno può sognare concretamente la serie b e anche loro a loro manca un attaccante che è guerra ma ne hanno un altro hanno di molfetta in panchina sao in panchina quando hanno giocatori importanti io sono convinto che domani il trento dovrà cederà il passo non è stato fortunato tra virgolette a incontrare per golettese virtus verona entrambe molto in forma e domani la fralpi salò diciamo che eventualmente perdere con la fralpi ci può anche stare qui poteva fare due punti con la fralpi con virtus verona per golettese però domani la vedo molto molto dura ripeto la fralpi se non va in serie b quest'anno anche perché bisogna allargare un po l'orizzonte pensare che attualmente ultime in classifica in serie b sono spalle brescia ultime in difficoltà se dovesse finire così il campionato ritrocedono entrambe nel girone a quindi ti troveresti in vicenza magari padova spalle brescia la fralpi salò è consapevole del fatto che quest'anno deve essere l'anno buono ha le potenzialità economiche per farle perché dietro ha un colosso gigantesco dell'acciaio eccetera eccetera della cirurgia non mi ricordo comunque metalli pesanti e al trento mancano dei giocatori non è informissimo io vedo il 2 è difficile darti torto anche non solo per il peso della dell'avversaria di turno ma anche perché abbiamo visto un trento nelle ultime due partite appunto con con pergolettese e virtus verona non proprio al meglio insomma al di là del fatto se poi aggiungiamo anche che appunto ora mancano quattro pedine comunque nel nel reparto più arretrato sicuramente viene difficile pensare a un trento che possa tentare di fare il colpaccio può giocando anche in casa ma anche questo non è un fattore che abbia mai inciso in questa stagione anzi ecco anzi quindi anch'io sono propenso a dare il 2 quindi la vittoria alla capolista ferralpi salò e dal calcio passiamo alla pallavolo perché sempre sabato alle 20 e 30 si gioca gara 3 dei quarti di playoff scudetto quindi trento messa a confronto un'altra volta per la terza volta a monza si vince si passa a vincendo tre gare su su cinque previste in questo momento la serie è sull'1-1 ma soprattutto trento ha perso un'occasione due giorni fa di portarsi sul 2-0 anche in questo caso causa acciacchi anche dell'ultima ora come problemi gli stessi che ho io adesso intestinali ecco per qualche giocatore dell'itas oltre magari a qualche mezzo infortunio sembra che la situazione sia in via di recupero sembra che almeno micheletto e anche sberto insomma siano sulla via di recupero c'è qualche dubbio su podrascan in ancora però insomma ecco qualcosa dovrebbe permettere di rimettere anche kazischi nel suo loro originale quindi la situazione dovrebbe essere in via di miglioramento domani mattina sabato mattina se ne saprà di più però voglio pensare che in questo caso trento si riprenda la serie portandosi sul 2-1 e comunque vada poi si va necessariamente a giocare gara 4 io la vedo così sei molto deciso come queste bolle deciso dell'acqua san benedetto che leggo adesso c'è stato preciso puntuale perfetto come spesso ti non mi capita io sono d'accordo con te appunto da questo problema gastrointestinale che io ad ora ora spero di passarti anche a te grazie e tanti l'hanno superato quindi io dico dillo prima tu ma io direi che quasi quasi ci stiamo no ci stiamo un 3 a 0 volevo dire la stessa cosa ci sta un 3 a 0 qua che sofferenza immane ricordo che c'è anche un video in questo momento vabbè non è che sto facendo la cacca allora vogliamo andare a dare il finale 3 a 0 3 a 1 tie back a parte può anche perdere no non perde 3 a 0 dai abbiamo due risultati su due uguali identici no anche tu hai detto 3 a 0 vabbè non devi cambiarlo per forza l'hai pensato lo teniamo così siamo questi gesti li fai forza allora fratello anche fratello sicuramente dobbiamo venire la giornata di domenica appunto non avendo nemmeno la serie di sulla quale ragionare o passiamo alla domenica tardo pomeriggio 17 a 30 con il match tra aquila e napoli e poi passiamo allora magari per uno sguardo proprio di curiosità al campionato di eccellenza come vuoi tu sandro come vuoi tu allora rimaniamo sul basket dai aquila ottavo posto 22 punti napoli 14 punti 15esimo posto quante partite mancano intanto alla fine della regola season della serie A dillo tu una domanda che io faccio a te 6 non è vero sì è vero 6 Napoli è ultima perché è 15esima ma pari merito con altre due squadre una completa 3 addirittura bagarre totale per non retrocedere reduce da 5-6 sconfitte consecutive contestate in maniera molto forte dai propri tifosi domenica dopo il K.O. subito contro Brindisi come Alessio sa benissimo e ma tu devi fare questi sorrisi sognoni lo so sarcastici è stata contestata lo so con chi ha perso che l'ho detto un secondo fa Brindisi bravo bravo forza e Trento Trento anche ha perso con Tortona ha perso contro Gran Canaria ha perso contro Hamburgo però i valori in campo sono diversi tendenzialmente dopo la pausa per le nazionali l'Aquila non ha mai demeritato anche se ha perso spesso quindi io credo che l'Aquila possa vincere anche perché non è andata perse male ci sarà un po' di voglia di rivincita particolare con ci vorrebbe anche una bella vittoria doppia cifra più di 10 punti di distacco quindi diamo un 1 con più di 10 tu adesso fai il merdina 1 minuti assolutamente no anzi hai perfettamente a ragione tu l'Aquila ha bisogno di scollarsi di dosso un po' di dubbi che ha lasciato per strada anche nelle ultime settimane e non può non approfittare insomma della sfida contro l'ultima della classe e quindi anche secondo me vincerà abbondantemente quindi andrei anche a più di 15 punti penso a te no ma vabbè ma allora se succede sì perché comunque dai abbiamo visto uno spagnolo comunque in forma abbiamo visto comunque un la Durner comunque in grado di fare la differenza anche nel match purtroppo poi perso anche di Euro Cup quindi comunque insomma fraccadori che ha bisogno insomma di trovare un'ottima di continuità per non buttare ai porci ciò di buono che ha fatto in queste ultime settimane quindi io voglio pensare a un'Aquila spumeggiante ma dai dal fuori il... oggi va così ragazzi ho mal di stomaco sì esatto allora se io dico questo guardatemi abbiamo fatto le stesse previsioni sì esatto adesso ce la giocheremo sul filo di lana se Kaiserman vince perché l'Aquila vince con più di 15 punti di distacco io non vengo più tanto sul contratto non c'è scritto da nessuna parte che io debba fare questo devo scrivere c'è scritto che devi accettare la superiorità dei colleghi eventualmente questa si manifestasse allora non c'è scritto questo e non c'è neanche scritto che io debba fare due volte a settimana il podcast lo faccio perché è un bel progetto mi piace se però tu dovessi vincere adesso guardiamo l'eccellenza ma se tu dovessi vincere per chi l'Aquila vince con più di 15 io non vengo più prendetelo per buono perché potrebbe essere interessante dicevamo essendo orfani di altro tipo di calcio andiamo questa settimana al massimo campionato regionale molto rapidamente anche perché siamo già a 20 minuti di registrazione segnalavo forse due match che possono essere anzi no 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 ce ne sono di più ce ne sono anche quattro e vabbè cosa facciamo quattro pronostici? no 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 era solo per segnalarli poi decidiamo su cui su chi dare attenzione come dicevo Comano Terme Fiavé che in casa comunque non è male dopo il cambio di rotta dei giudicariesi ci sono stati dei risultati positivi che ospitano la prima della classe il Mori il Lavissa lanciato ma che esce anche con le ossa rotte per dirla così anche se è un po' forte dalla sfida dei quarti di finale di Coppa Italia che sfida una Vipo Trento sempre sull'incerto che ha bisogno di punti salvezza perché a questo punto la Vipo non può certo sentirsi fuori con 24 punti se pensiamo che la strada del vino ne ha 21 e appena ultima San Paolo Arco è la sfida della vita tra terz'ultima e ultima della classe e un altro derby al tuo tesino che potrebbe dire molto è va in strasse Stegona Stegona sta sicuramente meglio della strada del vino ma appunto essendo un derby tra alto a tesine può davvero essere aperto a qualsiasi tipo di risultato come spesso accade questi sono i quattro è lungo questi sono i quattro match diciamo sui quali porre maggiormente l'attenzione e su quali facciamo i profili previsionali? io ti dico che il San Paolo si prende il match perché Casalingo contro l'Arco se lo prende purtroppo condannando l'Arco io lo vedo così per quanto mi riguarda adesso tu decidi anche quali partite vabbè fai tutto tu il Mori comunque sia per quanto stia bene il Comano non può permettersi di perdere terreno quindi andrà sicuramente a espugnare le rotte di Ponte Arche mi piace quando usi sto sicuramente sei un arrogantello come? no sta zetta e secondo me il Lavis si imporrà in casa sulla Vipo Trento io farei questi tre questi tre match allora sulla Vis penso anch'io che si imporrà contro la Vipo appunto è diventato pareggio esatto nessuno dei due vincerà no dai io voglio pensare che il Comano invece pareggerà contro il Mori Santo Stefano ce la giochiamo qui? si ce la giochiamo qui e poi dai tanto perdere per perdere ma tu all'Arco vuoi bene si esatto lo volevo dire e quindi dai un due all'Arco allora fai tutto tu è veramente volevo dire che spero che Roberto De Laurentiis a quale mi lega un rapporto di quasi familiare quasi familiare figlio sì io voglio credere che l'Arco vincerà anche se il San Paolo è riducido a una bella vittoria contro la Vipo io dico due due va bene allora questi sono i nostri pronostici De Laurentiis sarà il padrino di mio figlio ah non devo essere io? no perché non possono entrare in chiesa i blasfemi determinate persone e Parco mi ha detto Kaiserman determinate persone mi hanno detto meglio che non entri va bene va bene va bene se no andiamo a toccare i tasti dolenti la settimana prossima invece per una sfida soprattutto di serie B interessantissima come in Cagliari Suttilol la settimana prossima però a differenza di qualcuno che ha scritto domani sabato primo aprile noi abbiamo non domani noi siamo corretti un altro dovrebbe leggere prima di pubblicare ma era lo scherzo di aprile la settimana prima è tutto lasciamo Stafro Frigo ad assolvere le sue incombenze fisiche ecco adesso quando il sol tramonta gli asini se imponta a lunedì con il commento ciao ciao Grazie a tutti.